Violenze su un bambino di 9 anni. Queste le accuse mosse nei confronti di una suora che all'epoca dei fatti, il 2016, alloggiava in una casa famiglia della provincia di Frosinone e che nel pomeriggio aiutava i bambini nel recupero scolastico. Ed è proprio durante il doposcuola che lo studente, che oggi ha 12 anni, veniva percosso dalla religiosa. A volte restava anche a dormire, tanto era il legame di fiducia che legava i genitori a chi gestiva la struttura. Non è stato però il piccolo a denunciare i fatti che accadevano all'interno della casa famiglia. Si era stretto nel più intimo riservo, per paura, anche per vergogna. I dettagli di questa triste vicenda sono emersi solo quando la mamma si accorta della presenza dei lividi evidenti su braccia e gambe del piccolo. Interrogato il ragazzino, la donna veniva a sapere delle violenze perpetrate da una suora, oggi 65enne. Appena raggiunta dalle accuse, la religiosa ha tolto gli abiti monacali e si è trasferita in Sicilia. Il dodicenne sarà ascoltato il prossimo 8 aprile dal magistrato nel corso di un incidente probatorio.